... ... ... e mica lo buttano giù il pallone si è? gli americani vedono il pallone e lo buttano giù cazzo magari appunto erano tutte in montbolfiere ma è un po' più la metterò che i coglioni eh ma si fa pensavo di non farcela è un po' che non lo provo ma oramai non perde più il vicio non lo vedi ma neanche non lo vedi? è un massimo di fermeria mettendo la porcella mettendo la porcella qui oh lì 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 oh il piede figa sta andando a buco eh ti rompio il piede lì eh si è fatto male no? no no perché come a foto ti fai male eh Si è fatto le cibo no? Si Si sono lungate le giornate Eh si è bello venire al pomeriggio Cazzo ancora chiaro Adesso ancora pochino poi piazziamo lì fino Piazza 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 hai visto come si fa girare? mi sa che si voleva girare a rendere la sua scuola c'è una 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 scuola a voler